Sicuramente il terzo corso è quello che corona tutta l'imparcatura di questa trasmissione di dati che fin dal primo corso sono stati essenziali, utilissimi, però in questo terzo diciamo che abbiamo in mano la possibilità effettivamente di cominciare a tradare con cognizione di causa, non così a caso, quindi io se posso dare un consiglio a tutti, coloro che sono appassionati di criptovaluta dico fate questo corso, fate per l'appunto tutti e tre fino ad arrivare a questo terzo perché vi mette in mano degli strumenti utili, utilissimi per poter effettivamente tradare e sapere quello che state facendo, altrimenti il rischio è quello di fare delle stupidaggini e credendosi dei trader quando non è così, con il corso invece abbiamo in mano gli strumenti per poter tradare effettivamente, consiglio a tutti di fare. Grazie. Grazie.